Buonasera e benvenuti a bordo della Locomotiva dei Sabori. Già questa denominazione ci predispone bene in questa iniziativa che sa di movimento, e movimento verso una meta che è frutto sicuramente di una sinergia che parla di territorio. Quindi già il primo complimento all'organizzazione per aver denominato in maniera giusta questa iniziativa che è iniziata questa mattina e che nel cortile di Palazzo Dogana che ci sta ospitando ha già visto una numerosissima partecipazione e ha già apprezzato quelle che sono alcune delle eccellenze di questo territorio. Questa sera si parla di eccellenze, eccellenze nei prodotti ma eccellenze anche nei personaggi che occupano questo tavolo e anche dalla parte del pubblico. Quindi io inizierei subito con i saluti di Antonio Trombetta che, sapete benissimo, è il direttore provinciale della CNA di Foggia. Prego Antonio. Bene. Buonasera a tutti. Precisiamo, Antonio non si sape. Sì, vabbè c'è stato una. Allora, io ringrazio che si volti qua, ringrazio il Presidente, il nuovo Presidente della Camera di Commercio di Foggia, Dino Di Carlo. Questa è la nostra guida delle imprese del territorio. e ringrazio il Sindaco di Ciapprile, l'Assessore Lorenzo Frattarolo, tutti presenti, anche in rappresentanza del patrocinio del Comune di San Nicandro, l'Assessore Giovanni Villani, che vedo qui in via fila, il Presidente della Camera di Commercio Antonio Di Mauro, Metauro, scusate, Metauro. Ci sono, scusate, sono un po' stancho perché arrivo da un altro incontro a Criccione dove abbiamo parlato anche di Capitanata, di sviluppo del territorio di Capitanata. Oggi mi è fatto tanto piacere stare qui e parlare appunto di quelle che sono le eccellenze dei prodotti di Capitanata. Parliamo della filiera del grano, conosciamo benissimo che la Capitanata è il Granario Italia, ed è importante, in effetti, valorizzare quelli che sono tutti i prodotti da forno, come i prodotti per quanto riguarda la filiera e così via. La nostra terra è così fatta che, unita alla passione appunto dei nostri agricoltori, ci permettono di ottenere grandi di qualità, che è la base della produzione di pane e prodotti da forno. Tuttavia la filiera del grano, come molti altri, sta affrontando le sfide importanti, la crescente dell'utilizzo internazionale, l'aumento di costi di produzione, l'influzione dei prezzi del grano e il cambiamento climatico sono alcuni dei problemi che dobbiamo affrontare. È importante quindi lavorare insieme come filiera per superare questo Stato e garantire un futuro sostenibile e competitivo. Quelle che possono essere le azioni da affrontare sono alcune, poi ne parleranno qui i nostri esperti, sostenere la produzione locale del grano, promuovere il consumo dei prodotti locali, migliorare la trasparente e la tracciabilità della filiera, questo è importante, e sviluppare nuove tecnologie di modelli di business, oltre a rafforzare il legame tra agricoltori, panificatori e consumatori. Questo per quanto riguarda il grano. Poi c'è tutta una serie di eccellenti per quanto riguarda gli altri prodotti che noi oggi abbiamo voluto rappresentare qui stamattina con l'evento che ha avuto un nome successo e poi si proseguirà dopo la nostra conferenza. Io vi ringrazio, vi ringrazio una volta e ringrazio la parola a Antonio. Grazie, Antonio Monziante, presidente provinciale della CNA di Foggia. Adesso arriva Antonio Trombetta, direttore provinciale della CNA di Foggia. Quindi a lui il microfono per questo interessante intervento che parla della strada del grano. Andiamo a capire un attimo la nostra locomotiva, la locomotiva dei sapori, che strada ha intenzione di percorrere. Prego Antonio. Grazie, grazie Antonio, grazie a tutti voi per essere presenti in questa sega. Ci ringrazio all'ospedale, a Francesca Petrini e a Gianni Fabris. Francesca Petrini è la nostra presidente nazionale del settore agroalimentale. Fabris è il portavoce di Altra Agricoltura, che hanno voluto accogliere l'invento di essere presenti a questa nostra iniziativa, veramente un ripresamento a tutti gli altri ospiti, rappresentanti di associazioni di categoria e elevatori al convegno. Andrò molto veloce perché i contributi sono tanti e sono tutti contributi importanti che meritano la dovuta attenzione. Intanto, il motivo per cui siamo qui, siamo in un'iniziativa promossa dal Cata CMA Puglia, una struttura di servizio tecnico per le imprese dell'artigianato, che è finalizzata alla valorizzazione in Puglia del pane, dei prodotti da forno e dei prodotti tipici. È un progetto finanziato, questo di animazione territoriale, finanziato dalla regione Puglia e rientra nelle attività previste dalla legge regionale sull'artigianato. Particolarmente in provincia di Foggia ci siamo impegnati per utilizzare queste risorse con tre linee di intervento. Una linea è quella di stare dentro un progetto regionale di comunicazione delle imprese artigiane, stiamo producendo vari videoclip sulle imprese e sui prodotti tipici. Un'altra linea di intervento è quella di prospettare un'iniziativa di innovazione territoriale, di contesto territoriale, che è quella di cui parleremo questa sera, è connessa a questa la proposta di organizzare, di mettere in campo una rete d'impresa denominata appunto la locomotiva dei sapori, che vuole aggregare in modo stabile le imprese del settore della panificazione dei prodotti da forno, ma soprattutto è con queste anche le imprese dei prodotti tipici. Sostanzialmente è un'iniziativa che mira a mettere in campo rispetto alle istituzioni, rispetto alle imprese, una proposta di infrastrutturazione territoriale per la destagionalizzazione turistica del territorio, che è una di quelle sfide di cui sentiamo parlare da molti anni e rispetto alla quale continuiamo a interrogarci, ma poi manchiamo di proposte concrete. Non è che questa sia la proposta concreta, può essere una delle proposte concrete da mettere in campo. E' chiaro che anche nell'approcciare questo tema noi partiamo da quella che è l'agenda che ci viene imposta dai mutamenti climatici, la desertificazione del territorio e tante altre crisi ambientali che è inutile adesso andare a riepilogare essendo parte della nostra quotidianità. Dentro queste crisi noi siamo protagonisti di processi di innovazione e di mutamenti che sono molto spesso contraddittori. Come se, come dire, io seguo sempre, saluto di che regalate, seguo sempre uno dei miei pensieri che ci diciamo, sembra come se forze contrapposte continuano a scontrarsi e proprio perché contrapposte non riescono a determinare alcun cambiamento. Per esempio, e arrivo al fatto nostro del quotidiano, nell'alimentazione il pane costituisce un elemento principale e lì contrapposti sono le mutamenti di cui siamo parteciati. Da un lato l'innovazione del pane precotto, fatto con pasta concevata che viene dall'estero, lievitazione accelerata, cioè processi che rispondono o comunque influiscono su quelli che sono i comportamenti di mercato. E contrapposto a questo invece lo sforzo enorme delle imprese artigiane soprattutto, di scoprire grani antichi, di riproporre un pane integrale di qualità o pane di segale che è di valori eccezionali. In un certo senso all'omologazione a cui ci costringe l'offerta dell'industria alimentare e si contrappone una resilienza della tradizione, della capacità di innovazione dell'impresa artigiana che però, e di questo noi siamo convinti, non può da sola mantenere questo contrasto equilibrato con la grande industria che sull'innovazione, sulla ricerca investe molte più risorse di quelle che può investire la piccola impresa. E per questo le due proposte che noi presentiamo stasera mirano a realizzare che cosa? Una grande alleanza, a prospettare una grande alleanza tra piccoli produttori e territorio sui temi dell'innovazione. Dobbiamo essere consapevoli, soprattutto in questi territori dove la grande impresa non è soggetto fondamentale della produzione di ricchezza che se vogliamo continuare a mantenere un'economia sana, ricca, sostenibile dal punto di vista economico e sociale il territorio deve rendersi protagonista come primo soggetto di quelli che sono i processi di costruzione sociale dell'innovazione. Perché ci interessiamo nel pane? Perché in provincia di Foggia sono quasi 400 in panificio e nel corso di questi anni hanno messo in campo processi di innovazione che hanno consentito di portare nel panificio moglie e figli perché anticamente era il mestiere di donne ma nell'economia moderna era il mestiere di uomini e oggi è il mestiere di famiglia. Guardate, è uno dei pochi esempi in provincia di Foggia ma credo in modo diffuso una realtà meridionale che è la famiglia che diventa impresa e voi sapete tutti che il successo dell'economia dell'Italia centrale in gran parte è centrato proprio su questa caratteristica la costruzione della ricchezza a partire dalla famiglia che viene poi tramandata tramandata ai figli con i passaggi generazionali. Questo settore è uno di quei settori in cui il padre lascia il mestiere ai figli e il figlio se ne appropria con orgoglio. È un settore che ha nel corso degli anni innovato fortemente negli anni del dopoguerra c'erano i forni c'erano le vedove che panificavano per il quartiere negli anni 60 sono nati i panifici cioè c'erano i forni in cui non si panificava più per le altre. Si faceva il pane. Negli anni 80-90 c'è stato il primo grande cambiamento alla crisi della vendita del pane i panificatori hanno risposto aprendo lo spaccio vendita e iniziando a mettere su la mia proposta di prodotti i prodotti tradizionali i taralli, i biscotti prodotti della tradizione nel 2000 il panificatore ha continuato a fare economia innovando molto nel prodotto e quindi ha portato altri prodotti della tradizione nel mercato economico così solo per rinfrascarci la memoria noi stasera abbiamo qua oggi abbiamo portato qui un bucurato di Sanitano che era un prodotto che si faceva in un periodo particolare e si faceva nelle case oggi si fa nei forni e si fa tutto l'anno questa è come dire tradizione che innova perché innova nel prodotto innova nel prodotto e su questo può affare economia noi dobbiamo provare oggi di fronte partendo da quel presupposto che dicevo prima che la spinta all'innovazione se avviene in modo autonoma da parte di piccole imprese non può sopportare la sfida della grande impresa io ritengo che occorre oggi elaborare un percorso di valorizzazione delle produzioni tradizionali per mantenere vivo il patrimonio imprenditoriale locale e per innescare un processo di sviluppo che conservi le sue radici nel territorio occorre cioè cercare di sostenere un mercato di nicchia che però innovi rispetto al mercato locale che oggi è sostanzialmente il target dei panificatori artigiani lo dico a me stesso in modo più semplice noi siamo la provincia di Foggia la provincia del parco nazionale del Gargano uno dei parchi più grandi in Italia non solo per la popolazione residente ma per il numero di turisti che fuisce di quel bene siamo anche la città del parco dell'Ingonata che tanta economia turistica può fare siamo la provincia in cui la regione ha proposto di istituire il parco dei mondi dauni cioè siamo una provincia che rispetto alla tutela del patrimonio ambientale culturale della capacità tradizionale di fare economia ha investito ha investito tutto dal punto di vista della programmazione territoriale è consapevole che questo può produrre turismo ma che cos'è il turismo oggi non è mica solo il contatto che una persona ha per 10 giorni o 15 giorni per un territorio non è più solo questo questo quello è il turismo dei villaggi organizzati ma il turismo che conosciamo noi che è quello delle seconde case di persone che condividono il territorio può farci immaginare anche la costruzione appunto di un mercato locale che va oltre i confini amministrati nella provincia di un turista che adotta il territorio e si appropria della cultura di quel territorio non dico non ma di nuovo Slow Food ha fatto storia da questo punto di vista noi dobbiamo solo essere convinti che il patrimonio di cui siamo portatori ne ha le validità e su cui bisogna investire ora la strada del grano che noi proponiamo ai comuni della provincia di Foggia e poi di noi in particolare a quali comuni è una proposta di innovazione con cui costruire un itinerario culturale e gastronomico che valorizzi il patrimonio etnografico di cui è ricca la nostra provincia noi abbiamo sei musei di cultura materiale e musei etnografici di pregio alcuni di pregio nazionale alcuni di pregio nazionale che possono essere attrattori culturali molto di più di quando riescono ad essere oggi e non solo per i comuni dove sono istituiti uno di questi è Affoggia Città uno di questi Affoggia Città uno dei più antichi dobbiamo cioè mettere in campo un itinerario culturale e gastronomico che si arricchisce con le testimonianze architettoniche presenti sul territorio penso al borgo di Ripalta alle masserie fortificate alla stessa architettura della riforma agraria che per quanto misera possa sembrare rappresenta una grande un grande patrimonio la riforma agraria è stata la rivoluzione più importante dal punto di vista culturale e urbanistico che ha interessato l'Italia meridionale nel dopoguerra e noi stiamo assistendo al degrado di quel patrimonio proprietari che buttano giù i tetti per non pagare l'inno quando invece quello potrebbe essere una possibilità di sviluppo di sviluppo territoriale insomma un'architettura fatta anche di antichi murini antichi forni di eventi culturali che arricchiscono il territorio che hanno solo bisogno di essere messi in vete sistemati proposti al mercato turistico e governati e governati io invito tutti voi così velocemente a farvi conti di che cos'è il mese di maggio in questa provincia con tutti gli appuntamenti delle feste patronali e di quante migliaia di euro per mantenere il campo spendiamo in artisti e in proposte culturali senza avere alcun ritorno di presenza turistica c'è una cosa fuori da ogni senso fuori da ogni senso e il mese di maggio e quelle festività sono tutte legate a quello che chiamiamo il ciclo a quello che chiamiamo il ciclo del grano e il ciclo del grano ha nel pane e nel combanatico il risultato finale il grano non si coltiva per il gusto di raccoglie si coltiva perché deve essere trasformato e dalla trasformazione nasce la grande ricchezza di pane e attorno al pane il combanatico noi sappiamo che la cucina di capitanata è fatta di pane qualcuno direbbe quella povera non dico io dico quella ricca di sapori è fatta di pane cavdello scattamogliere diremmo al des acquasale pancotto tutte proposte di gastronomia popolare non di alimentazione popolare di gastronomia popolare in cui i sapori gusti vengono miscelati utilizzando tutto quello che ci dà la terra che non riusciamo a valorizzare perché non riusciamo a metterli a sistema per questo nella strada del grano una proposta che noi offriamo alle istituzioni sulla scia di quella che è stata l'esperienza della strada del vino della strada dell'olio sono le strade previste dalla legge nazionale dalla legge regionale stesse leggi che poi vedremo però invitano a proporre queste esperienze per altri prodotti noi dobbiamo far nascere poi la possibilità di costruire quella che dicevo essere la locomotiva dei sapori l'esperienza della strada del vino abbiamo detto questa stessa legge dice che si possono proporre strade diverse strade diverse anche integrate tra loro io però sono convinto che la strada del grano come esperienza forte della capitanata sia una proposta su cui dobbiamo sbattere la testa su cui dobbiamo sfidareci perché può costituire può essere uno degli elementi identitari di questo può raccogliere degli elementi identitari della nostra provincia il grano ha disegnato il territorio della rata io mi fermo perché poi sentiremo Savero Rosso che parlerà del grano altri contributi che parleranno di questo e la cosa fondamentale è che non si tratta di proporre un museo perché la cultura del grano è ancora viva in questo territorio può in un certo senso essere un problema perché è chiaro che dal punto di vista agronomico l'arboreo è senz'altro più produttivo del seminativo ma quello è e poi dobbiamo lavorare per farlo diventare una risorsa e nella sua vitalità proporlo come elemento di turismo esperienziale che tanto oggi pira così come la cultura del grano ha testimonianze diffuse sul territorio testimonianze che sono in gran parte fruibili no sono in gran parte rifunzionali possono essere oggetto di una rifunzionalizzazione dal punto di vista economico dal punto di vista economico il borgo di riparta da solo può diventare un luogo di accoglienza per oltre 500 persone se rifunzionalizzato con contenuti però innovativi da questo dal punto di vista dell'esperienza turistica ora mettere a rete significa proporre interventi di infrastrutturazione territoriale proporre interventi di infrastrutturazione territoriale e soprattutto provare a recuperare alcune emergenze architettoniche che erano rendevano vitale e vissuta la nostra campagna io penso solo ad esempio ai centri sociali realizzati con la riforma agraria che erano nei luoghi dove erano localizzati la chiesa il tabaccaio la sala previsione poi c'erano le scuole e che anche quelli rischiamo di perdere nell'indifferenza più generale ora per sintetizzare e ricordare a me stesso quindi la strada del grano ripercorrendo le strade del vino è una proposta in cui un percorso un percorso viene segnalato e pubblicizzato con la dovuta cartellonistica in cui i valori naturali culturali e ambientali vengano comunicati con apposita cartellonistica oltre che recuperati e a cui aderiscono le aziende che si rendono disponibili per svolgere l'attività di accoglienza attività di accoglienza in cui al centro resta la narrazione del territorio per quello che è stato l'esperienzialità rispetto a quello che il territorio è e poi soprattutto degustazione enogastronomica perché questa costituisce una delle nostre ricchezze una delle nostre specificità mangiamo in modo diverso dagli altri e anche se mangiamo povero mangiamo non voglio dire meglio perché ognuno mangia come più gli aggravi ma mangiamo bene no mangiamo bene mangiamo bene e quindi queste aziende che si rendono disponibili a questo tipo di proposta chiaramente è un'attività integrativa rispetto all'attività ordinaria che fa un'azienda sia essa agricola o di panificazione o di produzione di prodotti tipici è connessa con i musei etnografici che sono presenti sul territorio e con le emergenze storiche penso alla Piana dei Fossi a Cerignola o altre realtà viene a rappresentare una proposta di fruizione turistica del territorio non concentrata nel mese di luglio ed agosto anzi precede di poco proprio il lancio della stagione della stagione estera le città i comuni di primo riferimento sono i comuni che hanno o nel loro territorio un museo etnografico già attivo o hanno sul pane costruito un'immagine dello stesso comune e quindi i primi punti di riferimento sono Forcia Monte Sant'Angelo Vigo del Gargano Ischiterla Cagnano Varano San Di Cantro Gargano Coresina San Sereo Sant'Agata di Puglia Orsara di Puglia Ascoli Satriano Cerignola chiaramente Ascoli Satriano è individuata perché ha una delle delle proposte di pane tra i più buoni della provincia di Foggia o Sera di Puglia all'esperienza del forno a pane e della qualità del pane così come tutti gli altri comuni diranno che in loro è il migliore e quindi noi ci auguriamo che questo elenco di comuni possa spingere anche gli altri a dire ma vogliamo starci pure noi questa parte di progetto diciamo è riferita appunto all'innovazione di contesto e a un protagonismo che deve essere soprattutto dei comuni e noi ci auguriamo che il comune di Foggia città capologo di provincia faccia proprio questo progetto e si metta la guida per animare anche gli altri a seguirli noi abbiamo prerisposto anche una bozza di primo regolamento della strada del grano che abbiamo messo nella cartellina e collegata a questo stiamo già animando il mondo delle imprese per la costituzione della rete di imprese e la locomotiva dei saluti di cui però non vanno in questo caso mi ringrazio grazie Antonio Trombetta direttore provinciale CNA di Foggia quindi innovazione e valorizzazione del patrimonio locale patrimonio locale che sa di tradizione che è anche capace di identificare un territorio come accade nel nostro territorio con l'istituzione di un itinerario culturale e gastronomico che possa diventare obiettivo di una destagionalizzazione turistica nella nostra provincia ora Saverio Russo professore del dipartimento studi umanistici devo fare le salute che se no mi riusciano alla fine ah c'è una scaretta dell'aspettabile no possiamo possiamo fare se no mi mettete ok mi metto solo allora immediatamente le passo il microfono e eccolo qui un attimo Pino Di Gallo Presidente Camera Proverso di Toggia grazie scusa se ho insistito però solitamente diciamo i saluti si fanno all'inizio non alla fine però va bene no no ma io lo voglio fare però il mio intervento ovviamente voi siete addetti ai lavori quindi diciamo io sono fresco come dire un presidente della Camera fresco di forno devo dire in questo caso io devo intanto ringraziare il CNA nella persona del presidente e del direttore Trombetta perché hanno sostenuto la mia candidatura alla Camera di Commercio questo auspico di averli anche in qualità di componenti di giunta proprio per avere quel supporto che come dire lo sviluppo di questa terra le imprese di questa terra l'economia di questa terra abbia bisogno di un contributo del mondo dell'artigianato e di competenze di questo livello come ho sempre pensato come cerco di dire spesso la condizione della nostra provincia è una condizione di assoluta anomalia perché noi siamo una provincia molto grande molto bella molto ricca e abbiamo scontiamo delle posizioni anomale che non meritiamo perché il potenziale è talmente tanto che dovremmo avere delle posizioni diciamo ben diverse l'altra volta scherzavo con proprio con trombetta dicevamo l'unico vantaggio vero che abbiamo e che non mi sembra poco che siamo in assoluto stando alla report di il sole 24 ore la provincia che assume meno antidepressivi in Italia quindi vuol dire che almeno depressi non siamo e questo è già un punto di partenza adesso qual è l'idea l'idea è quella di come dire valorizzare i nostri prodotti io condivido tutto quello che ha detto trombetta e aggiungerei un piccolo pezzettino la qualità le eccellenze vanno prodotte ma vanno anche raccontate è come se tu hai una bella donna la tieni in famiglia la guarda solo il quartiere poi non si può pretendere che tutta la città sappia che ci sia questa bella ragazza quindi le eccellenze vanno evidenziate vanno raccontate vanno spiegate vanno fatte conoscere se voi pensate che per esempio Bottura che è in assoluto il più grande chef del mondo io ho provato una volta a mangiare credo che sarà l'ultima volta perché è bravo o un poco poco caro e lui nel menù del G7 ha messo come primo piatto il pane pomodoro ovviamente un pane pomodoro rivisitato perché c'è del pane tostato però come dire anche dall'alto delle competenze anche dall'alto diciamo di specifiche competenze internazionali si sta piano piano tornando a quelli che sono i valori a quelli che è il valore vero dell'alimentazione no tu non puoi cioè il nostro pane tutti noi abbiamo viaggiato e indubbiamente il pane specialmente il pane delle nostre montagne diciamo delle nostre colline ha qualcosa in più dura di più è più saporito e come dire tieni io vabbè non voglio pubblicitare nessuno però per esempio ho utilizzato un pane di un forno di lucera fatto a legna che ha veramente qualcosa in più allora va bene tutto cioè la valorizzazione va bene però ecco io aggiungerei questo pezzetto che oggi in questo momento è fondamentale nell'epoca della comunicazione nell'epoca della diffusione via internet di tutto io aggiungerei il pezzo della conoscenza cioè fare in modo che tutto questo lavoro tutte queste competenze tutta questa qualità venga conosciuta da più gente possibile cioè aggiungere in questo pezzo in più poi è ovvio che come camera di commercio e poi avremo modo di farlo insieme la grande sfida è proprio quella di far vedere quanto siamo belli quanto è bella la nostra terra le specificità come dire la grande daunia con il gargano la bellezza di tutto questo territorio che secondo me non è ancora completamente conosciuto non è ancora completamente valorizzato perché magari fino a un po' di tempo fa parlare di pane sembrava sminuire diceva adesso che fanno la via del pane la strada del pane la locomotiva dei sapori cioè sembrava quasi che questo potesse essere ad appannaggio di una sagra di paese e invece no sono diventati punti di forza Bottura parte nel suo menù con un pane e pomodoro quindi vuol dire che non solo noi la pensiamo così però glielo dobbiamo spiegare che il miglior pane e pomodoro lo facciamo noi perché altrimenti lo sanno in pochi io vi ringrazio per quello che fate perché immagino che per mettervi su un progetto di questo tipo ci sia bisogno di uno sforzo in termini di impegno e io di questo vi ringrazio perché noi abbiamo bisogno nel nostro territorio e su questo io lavorerò molto in assoluto cioè di far venire la gente e di conoscerci però abbiamo bisogno di tante locomotive che ci portino come dire a una velocità diversa grazie 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 Presidente Camera Commercio di Foggia continuo con la scaletta che avevamo pensato sì 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 vediamo ok vediamo cervezza la scaletta ok vabbè comunque eventualmente non dovesse no la nostra locomotiva può fare una fermata senza problemi allora come diceva il Presidente Camera Commercio oltre alla valorizzazione e alla diffusione delle capacità e alla promozione delle eccellenze insomma mi sembra una cosa essenziale forse questo territorio sbaglia nel non promuovere quelle che sono le proprie eccellenze perché poi a cascata sul territorio ne beneficiano un po' tutti e Savere Russo che è il Professore del Dipartimento Studi Umanistici Lettere e Beni Culturali della Presidenza di Foggia è un rinomato appassionato di storia del Mezzogiorno ha inviato un suo contributo filmato che è un focus realizzato da lui sulla storia agraria del nostro territorio possiamo guardarlo? Eccolo Eccolo Buongiorno sono Savere Russo professore di storia moderna presso l'Università di Foggia mi dispiace non essere in presenza ma per l'impegno già preso e non differibile sono costretto a registrare il mio breve intervento come è noto ad alcuni di voi mi occupo di storia del territorio mi sono occupato nel passato continuo ancora a parlo di storia dell'agricoltura del paesaggio per la Capitanata e in generale per il Mezzogiorno la mia tesi di lavoro è riguardata proprio la l'agricoltura in Capitanata dal 1260 al 1914 ecco di noi premessa che uno stereotipo relativo al nostro territorio al nostro tavoliere o in generale alla Capitanata associano questi territori per i secoli che precedono il Novecento quasi esclusivamente alla transumanza e quindi al pastore tuttavia anche quando fino alla fine del Setticento la pastorizia transumanza costituiva la forma economica la modalità di organizzazione produttiva della pianura la cegaricoltura aveva un ruolo importante era un connotato significativo del nostro territorio per l'importanza che aveva la cegaricoltura del Cavoliere per l'approvvigionamento di Napoli le cui dimensioni crescono in maniera esponenziale dalla metà del Quattrocento fino al Settecento e oltre ma non era solo Napoli il tavoliere forniva cereali che venivano esportati soprattutto nei porti dell'alto Adriatico dai porti dagli scari di Manfredonia e anche da quello di Barletta che costituiva il porto di imparco delle verci per il tavoliero meridionale sono una prova della importanza che aveva la cegaricoltura e quindi l'importanza del grande tavoliero per i mercati meridionali e i mercati degli altri stati italiani e nell'Ottocento o anche per alcuni mercati inglesi o francesi dei paesi dell'Europa orientale e centrosettendrionale i grandi piani delle fosse che si trovano in molti centri del tavoliero a Forza c'era un piano delle fosse che aveva più di 700 fosse granarie e ne rimane uno che meriterebbe di essere maggiormente valorizzato e recuperato a Cerignola come noi ecco alla mità del Settecento dopo l'Eccaristia del 1764 e dopo anni difficili per l'approvvigionamento annonario alimentare comincia una fase espansiva della cenericultura che avviene a scapito del bosco e del pascolo e che porterà questa modalità di utilizzo del suono che era già importante come ho detto a crescere sempre di più ecco vi do dei dati che si riferiscono a qualche anno dopo nel 1810 all'incirca quando da pochi anni è stato abolito il regime della Nogana e quindi il sistema privilegiato diciamo quella modalità che fissava l'uso del pastoro l'uso del territorio a servizio della pastorizia transumante ecco dicevo attorno al 1810 la superficie seminata a grano nella nostra provincia nell'intera capitanata era già arrivata a 78.000 ettari all'incirca ma questa superficie si raddoppierà nel giro di 70 anni già che agli inizi degli anni 80 del 1800 si arriva a ben 185.000 ettari seminati a grano nel frattempo è avvenuto che è stata abolita la dogana successivamente nel 1865 si è consentita la libertà di uso della terra quindi non c'erano più piccoli tutte le terre a pascolo potevano essere seminate o utilizzate diversamente ecco successivamente salvo una piccola fase tra gli anni 70 e gli anni 80 segnata legata alla crisi agraria la superficie coltivata a grano nella nostra provincia ha continuato a crescere e nel 1967 si è arrivati a 255.000 ettari seminati a grano di cui 225.000 a grano duro adesso siamo su livelli inferiori 210-215.000 ettari ma ci sono delle oscillazioni da un anno all'altro un elemento significativo che va ricordato è che in passato il tipo di grano che veniva seminato era diverso da quello che si semina ora pensate che mentre nel 1810 si trattava prevalentemente ancora di grano duro e soltanto il 10% del grano seminato era costituito da granitee e maioriche questa percentuale sale nel 1860 al 55% quindi a cavallo dell'unità i grani seminati erano prevalentemente grani terri e maiori ora come è noto il grano che si semina è prevalentemente grano duro quindi parlare di grano non significa la stessa cosa nel corso dei secoli prima c'era il dominio assoluto del grano duro poi c'è stato un forte di grano dei grani terri e del novecento e adesso si parla quasi sostitivamente di grano duro ora il grano utilizzazione importantissima nel nostro territorio ma il grano che veniva coltivato e che produceva dei livelli che sono decisamente inferiori rispetto a quelli cui noi siamo abituati pensate che agli inizi dell'ottocento dell'ottocento dieci come dicevo si producevano all'incirca un milione e mezzo di tomoli il tomolo equivale a poco più di mezzo ettomitro quindi diciamo 800 mila ettomitri 500 mila quintali questi livelli poi sono nettamente aumentati 70 anni dopo negli anni 80 si è arrivati a 1 milione 700 mila quintali di grano prodotto con una resa che mediamente è di 10 12 quintali a ettaro e ora come è noto siamo a quanto va bene racconto che quest'anno fare la zia uno degli anni migliori si arriva a 7 milioni di quintali di grano prodotto il nostro tavoliero è stato come è noto l'uovo di sperimentazione agronomica negli anni 20 30 sono importanti le sperimentazioni fatte da vari studiosi ricercatori strampelli come il noto e segnano le pubblicazioni che uno studioso brindisino che insegnava qui ha dedicato alle sperimentazioni agronomiche si chiamava Antonio Florello a cosa serviva il grano questo è un elemento diverso ci propone anche un punto di vista diverso rispetto al nostro presente ecco dobbiamo immaginare un mondo anche dal punto di vista alimentare tra 700 e 800 diverso da quello a cui siamo abituati rispetto alle nostre abitudini alimentari ormai si consuma un quantitativo di pane giornaliero di pochi centinaia di anni pro capite forse in alcuni casi non si superano i 100-150 grammi pro capite di pane nel 1811 gli abitanti del nostro territorio venivano considerati nella statistica urantiana dei valenti mangiatori di pane e si calcolava un consumo medio di 6 toni di grano per ciascun individuo quindi con 3 toni di grano 2 quintali e 300 e 2 quintali e 3 di grano per produrre pane per ogni persona quindi immaginate livelli di consumo di pane decisamente superiori a quelli che voi stessi immaginate ho utilizzato nelle mie ricerche anche dei bilanci di famiglia dopo l'unità per studiare le condizioni di vita delle classi buttadine o degli operai o dei piccoli proprietà interiori si fanno dei bilanci ecco una famiglia con 3 figli una famiglia di operai agri con 3 figli quindi 5 consumatori consumano 5 rotoli di pane al giorno un rotolo sono 890 grandi quindi 4 kg e mezzo quindi immaginate 4 kg e mezzo per una famiglia media di 5 persone il mievitore contratto a un euro nel 1245 riceve nei giorni di lavoro un rotolo e mezzo o due rotoli di pane quindi fino a 1,8 kg di pane al giorno un solo consumatore il pastore riceve contrattualmente un chilo con un rotolo e mezzo fino a due rotoli anche di pane al giorno nel 1880 una famiglia di operai agricoli stati di Manfredonia con moglie e due figli quindi in questo caso sono 4 consuma appunto 3 kg di pane al giorno quindi possiamo immaginare che gran parte di questo quantitativo tirano veniva usato per la panificazione di fatti ancora nell'ottocento e lo sarà al lungo anche nel novecento la pasta non costituiva un alimento consueto la pasta è un cibo dei giorni questivi e quindi nelle famiglie dei centri popolari dei centri meno abbietti la pasta al massimo andrà la domenica a pure volte anche il giovedì ma raramente c'era una consuetudine appunto una pasta quale abbiamo noi quindi un mondo diverso che valorizza il pane e il pane che veniva utilizzato come è noto anche in altre preparazioni quando diventa l'affermo si faceva il pancotto e che continuiamo per fortuna ancora ad apprezzare quindi questi sono elementi che vengono da passato e che ci devono indurre a recuperare diciamo il valore economico simbolico antropologico del pane e dei pani che non è non c'è un solo pane ci sono diversi modi di fare il pane nel nostro territorio e anche questo appunto è un elemento che deve essere valorizzato e deve essere riproposto per il futuro per appunto diversificare i nostri consumi e migliorare appunto le condizioni di vita e di lavoro del produttore in modo particolare bene grazie al professor Sabelli Russo che voleva essere con noi durante questo nostro viaggio quindi noi nel 1811 eravamo definiti mangiatori di pane per quanto pane mangiavamo e la nostra locomotiva si ferma e facciamo salire Lucia Aprile vice sindaco del comune di Foggia grazie buonasera a tutti grazie per averci invitati grazie al CNA per aver organizzato questo evento diciamo che io anche oggi sarei considerata una mangiatrice di pane come tutti noi residenti in provincia infatti quando capita di essere fuori per un periodo un po' troppo lungo la prima cosa rientro è acquistare del buon pane e sono assolutamente d'accordo con il dottor Di Carlo che adesso non vedo assolutamente però questi prodotti tipici vanno tutelati vanno valorizzati e vanno portati fuori da queste mura necessariamente perché di fatto un bell'uomo tenuto in casa ha poca evidenza quindi è giusto non tenerlo in casa e quindi sì supporteremo sicuramente supporteremo sicuramente il CNA supporteremo tutti i comuni che intendono aderire e valorizzeremo sicuramente uno dei nostri maggiori prodotti il grano e quindi di conseguenza il pane grazie a tutti voi quindi il favorevole è il comune di Foggia per appoggiare il progetto della strada del grano e della locomotiva dei sapori una specie di diciamo annuncio formale di disponibilità a sostenere questo bel progetto prima di passare il microfono a Lorenzo Frattalugo farei una pausa perché mentre parliamo di pane eccetera eccetera vengono evocate quelle che sono immagini molto belle molto romantiche oggi quasi che mettendo da parte tutti quelli che sono i sacrifici di chi vive in campagna ci fa pensare con un bel sentimento a quella che è la vita di campagna dopo i lavori agricoli quindi l'area buona il cinguettio degli uccelli le belle case coloniche che effettivamente sono presenti sul nostro territorio gli antichi mulini gli antichi forni che sono delle preziosità che oggi quando si riescono a salvaguardare diventano veramente delle testimonianze di storia popolare e per fare questo Gianfranco Piemontese è un architetto rurale ha preparato un intervento che ci parla proprio di queste belle testimonianze ecco può prendere il microfono Gianfranco Piemontese buonasera a tutti a tutti scusate se ne spesso tutto ma c'è un powerpoint che accompagnerà il mio intervento è with a shade of pale trocolato famoso senza luce non sono io ok arriva tutto arriva tutto allora innanzitutto volevo ringraziare il dottor Tomvetta per avermi invitato a questa interessantissima e importante iniziativa la capitanata terra del grano io ho impostato il mio intervento sto fermandomi su due punti uno sono i borbi del rurale del tavoliere l'altro sono forse granarie e masserie una premessa dal grano alla pasta perché è vero che il pane il diciamo il principale protagonista di questo discorso però col grano si fa anche la pasta per cui la nostra terra comunque ha prodotto pane e aveva anche la stessa città di Foggia c'erano diversi mulini nella città di Foggia e poi in provincia un percorso che si rinnova fin dalle origini dell'uomo il sostentamento umano attraverso la cultura dei cereali e della loro trasformazione negli alimenti basilari del pane prima della pasta dopo hanno accompagnato lo sviluppo delle civiltà del Mediterraneo la capitanata fin dall'antichità era stata terra di coltivazioni estensive a parte la parentesi di circa quattro secoli di imposizione della regia dogana della mina delle pecore anche se qui il professor Russo diceva comunque c'era una parte di produzione in cerealicola sicuramente con la fine della dogana delle pecore tutto quel territorio vastissimo territorio che era tenuto e obbligato al pascolo sarà poi convertito in seminativo e cerealicolo per cui la produzione sarà sempre più grande con l'abolizione della dogana nella francatura dei pascoli a partire dagli inizi del XIX secolo questo territorio ha visto incrementare la coltura cerealicola con una vasta applicazione di culture di qualità di granita panificazione e poi insieme di rota pasta la pasta o se preferiamo i maccaroni cibo che è diventato sinonimo di italianità nel mondo anche se spesso con accensioni dispregiative oggi le alimentano base di miliardi di persone in tutto il mondo la Capitanata è uno dei produttori di grano duro per pasta e di pasta tra i più importanti Italia ed Europa diventano protagoniste a mio avviso di questo percorso della locomotiva del gusto all'interno del ragionamento del tema la strada del grano una proposta per destagionalizzare il turismo in Capitanata io sono d'accordo con tutto quello che avete detto fino adesso con l'eccezione della destagionalizzazione nel senso che a mio avviso non si tratta tanto di destagionalizzare quanto di allargare l'idea del turismo che non è solo quello estivo e balneare quindi maggio con la proposta che diceva Trombetta e a seguire giugno luglio agosto ma noi abbiamo un territorio vasto che può essere turistico non solo nel periodo estivo ma sempre e adesso lo andremo a vedere gli uomini e le donne che hanno lavorato all'interno di questo settore agricolo la produzione di grani particolari per non parlare di uno che è diventato importante e famoso e di qualità recente diciamo recente relativamente stiamo sempre parlando del XX secolo il grano cappello i luoghi dell'immagrazinamento del frumento le fosse granaglie poi le attrezze gli strumenti della raccolta e della lavorazione qui si citano i diversi musei etnografici presenti e quello di Foggia risale agli anni 30 al 31 estero lo iodice all'interno del museo civico esiste il primo prototipo di museo etnografico della provincia di Foggia qui hanno fatto seguito quello qui aspettando grande e importante Tancredi di Monte Sant'Angelo le fabbriche della pasta alias i mulini che hanno operato a Foggia in Canterra il grano è parte integrante della nostra storia economica e sociale del tavoliere di Puglia prima dell'avvento della meccanizzazione la nostra città e le nostre campagne quadruplicavano la presenza umana perché oltre ai braccianti del posto venivano i braccianti dall'Irpinia dal Molise e dal Varese e ci sono tante descrizioni di questo movimento perché? perché si faceva la raccolta manuale prima della meccanizzazione negli anni tra il 20 e il 40 ci furono delle specificazioni di decentramento per quelli che lavoravano nel mondo dell'agricoltura nella fattispecie e braccianti nella nostra città capoluogo questo fenomeno si è manifestato con l'espulsione dal centro abitato di migliaia di persone destinate al quartiere dei contadini questo è un esempio di Foggia ovvero un insegnamento posto fuori dal centro abitato sviluppatosi sulla via per Lucera quelle che si chiamavano le case dei contadini oltre ai contadini di città in quegli anni si programmarono e realizzarono una serie di borgate rurali che facevano da corollario al capoluogo penso a questo è Borgo Mezzanone voi lo vedete questa è una foto aerea è una delle prime borgate realizzate dal Consorzio Generale di Bonifica che è stato il primo a realizzare prima Borgo Mezzanone e poi Tavernola e poi Siponto a seguire c'è stato poi l'avvento dell'opera esisteva Giallo per la Nazionale dei Combattenti che ha preso in mano la gestione della Bonifica e quindi avviamo Mezzanone Tavernola Siponto Cervaro Giardinetto di Troia Seggessi e Incoronata Seggessi e Incoronata sarebbero dovuti diventare due comuni autonomi addirittura cioè l'idea era quella di urbanizzare le campagne cioè rendere le campagne che per tanti secoli erano state diciamo semplicemente legate alla pastorizia e poi alla coltivazione ma non c'erano delle strutture di servizio non c'erano c'erano solo alcune grandi masserie con quella idea della Bonifica si voleva dare da una parte un discorso di recupero di terreno da bonificare dall'altra si trattava di spostare e nel caso specifico di Foggia è dimostrato popolazione non gradita al centro città fuori dalla città l'esempio più importante è Borgo Scopari cioè quella parte di città di Foggia tra il corso Garibaldi e il corso Cairoli con Via Dante che un tempo era la zona del Borgo Scopari mi è venuta allora in tutti questi centri queste borgate erorali che cosa avviene vengono insediati i contadini non solo di Foggia ma dei Monti Dauni dell'Alto Tavoliere del Basso Tavoliere del Gargano tutto questo rientrava all'interno dei piani di bonifica attuali dal Contrasso di Bonifica e dall'Unice e da questi ultimi che nasce la mia idea cioè i borghi rorali di una possibile rivitalizzazione e tra virgolette destagionalizzazione del turismo in una provincia dove a questa luce esiste quasi sempre solo la risposta balneare estiva e quindi adesso andiamo i borghi rurali del Tavoliere li vedete sono stati un'esperienza del Novecento in cui noi abbiamo avuto la presenza di importanti architetti ingegneri pittori scultori artigiani che hanno lasciato all'interno di queste borgate importanti testimonianze voglio fare solo un esempio in Emilia Romagna vicino Ferrara c'è Tresigallo che è una borgata rurale che addirittura è diventata patrimonio UNESCO cioè quello che noi abbiamo intorno a Foggia è una grande ricchezza e forse non ancora ce ne siamo resi conto cioè il recupero e la riqualificazione di queste borgate all'interno di un processo del turismo alla scoperta del paesaggio rurale sarebbe una cosa straordinaria e credo che mai come in questi casi la definizione di turismo assume in sé la valenza storica e culturale dell'originario Grand Tour cioè mentre con il Grand Tour settecentesco ottocentesco si vedeva scoprire Pompei Ercolano e i paesaggi incontaminati della natura dell'Italia meridionale del Mediterraneo noi ci abbiamo le borgate arriviamo alla seconda parte la seconda parte queste sono alcune vedute nelle borgate questa è Borgo Cerrato con edifici vuoti di proprietà pubblica questa è Seggezza tra le borgate progettate negli anni 30 vicino a Foggia e la più importante la più famosa e diciamo qui nella chiesa si conservano opere di artisti importanti come Venanzio Crocetti Tommaso Bartolini Amedeovecchi ma lo stesso architetto Concezio Pietrucci che non solo ha progettato Seggezza il compresso parrocchiale di San Michele e il palazzo del Consorzio di Bonifica ma ha realizzato anche i piani urbanistici di Aprilia Pomezia Fertiglia e altro a Bari anche e dopo questo giardinetto di Troia che ha dispetto del nome Comune di Orsale di Puglia Seggezza in Coronata progetto di Giorgio Galzarvini un importante architetto del Novecento arriviamo al diciamo all'uovo più vicino questo che voi vedete è il frontespizio della rivista della reale società economica di Capitanata dove c'è questa raffigurazione di Alpi che vede come in primo piano un genio con un fascio di spigli in mano uno sfondo una città di luta che dovrebbe essere Arpi e sullo sfondo ancora il paesaggio diciamo del Gargano questa è una veduta ideale di Foggia sempre nelle incisioni che erano presenti su questa rivista e questo è uno straccio della planimetria di Mongelli di Foggia ottocentesca dove si vede questo spazio bianco enorme e il piano delle fosse granarie un piano che come in tutte le città principali ma anche le piccole avevano questi grandi piazzali dove erano realizzate le fosse granarie dove dopo il racconto si conservavano erano dei sirosi interrati in questa veduta ottocentesca si vede proprio il piano delle fosse questa è Porta Grande Porta Arpana la sagoma del teatro giordano la chiesa di San Rocco e dopo la chiesa di San Rocco si vede l'ex convento della Maddalena sono tutte illustrazioni tratte all'interno di un volume di un francese di Charles Yart che era venuto aveva fatto un giro per l'Italia qui siamo a Sansevero con piazza delle fosse nel periodo della fiera di San Pietro gli sfossatori sembrano un'incisione in questo volume e poi abbiamo un disegno che fece l'architetto Guglia Rossi che era lo schema della fossa granaria tipica che vedete veniva chiuso con una sorta di piramide in lamiera in questo caso che è presente anche nelle maggiori masserie sparse nella provincia di Foggia questo è il piano delle fosse di Cerignola e vedete che è l'unico piano delle fosse di Mastro Inter o il più vasto che è importante per la testimonianza di questa attività legata al mondo della cericoltura poi una veduta ecco come vedete la cericoltura negli anni 50 questa è la piana di Mattinata e vedete che fino a metà della piana oltre era seminativo a grano poi si sono piantate ancora olivi la trebbiatura del grano sul terreno prospicente del mare a Mattinata e qui abbiamo quello che oggi si considera una testimonianza di archeologia industriale il più grande silos granario d'Europa era stato realizzato dopo che furono vendute le fosse granaria di Foggia per cui tutta via Contappiano e via della Repubblica era il piano delle fosse il banco di Napoli le vende e lì vengono resi edificabili quei terreni e ci sono gli edifici oggi e invece delle fosse granare si costruisce questo enorme silos ora questo grande silos esempio di architettura industriale degli anni 30 è abbandonato e in altri contesti in altre città si sarebbe recuperato lo spazio per strutture ospitare un museo una struttura espositiva succede negli ex gasometri nelle ex fabbriche in qualsiasi città d'Italia ed Europa noi non sappiamo che fine farà questo perché ci serve l'idea del mattone e arriviamo alle belle testimonianze di architettura rurale quelle che possono essere scoperte non solo a maggio a giugno a luglio ma tutto l'anno anche perché sono vicine qui siamo nel territorio di Piccari e Santa Maria in Vulgano un enorme complesso masserale molto interessante qui siamo nel quadrone delle vigne ecco questo è uno spazio particolare di Foggia definito tra via del mare e via Bari che fino diciamo quando c'era la transumanza era l'unico spazio di terreno dove si coltivava vite ulivo e c'erano le residenze delle famiglie abbiente dell'aristocrazia foggiana questa è una questa è un'altra vigna a Brescia rosata sempre al quadrone delle vigne con delle architetture molto belle questa è un'altra masseria questa è di proprietà del comune di Foggia stiamo parlando di una parte del complesso di masseria giardino questa siamo invece a Ponte Albanito siamo sull'argine del fiume Cerroaro questa è un'altra vittura di Ponte Albanito sono enormi complessi che potrebbero essere utilizzati in un percorso di conoscenza del territorio sempre legato alla via del grano qui siamo nel lago di Cerniola masseria i pavoni pavoncelli vedete quei cunei rossasti sono i coperti delle fosse granarie perché i pavoncelli oltre ad avere un certo numero di fosse granarie nel piano delle fosse in città avevano delle fosse granarie anche nei loro tenimenti qui siamo sempre nel comune di Foggia e questa è l'unica testimonianza di architettura castellare che esiste nel comune di Foggia che non è ancora stata demolita è il castello di Ponte Albanito una fabbrica che risale al 1340 che è proprietà pubblica ma nessuno lo sa e sta accadendo a pezzi qui siamo masseria Zaccagnino un altro importante complesso masseriale che appartiene alla fondazione Zaccagnino del conflitto di San Nicandro Garganico questo è un enorme cortile con tutte quelle nicchie che erano utilizzate per fare miele qui siamo a masseria Canestrello alla parte del basso tavoliere nei confini con la Basilicata adesso sotto Rocchetta Sant'Antonio ancora la masseria Giardino qui ci sono una serie di fotografie che una viaggiatrice americana Catherine Putnam Walker ha fatto nel primi anni venti girando tutto il Gargano in alto questa è la masseria Gambaduro a macchia di Monte Sant'Angelo questa qui c'è guardatela attentamente percorrendo la strada si è finito abbiamo visto sulla strada adesso c'è un ristorante è un complesso masseria greco ma la località è Fazioni e io termino qui con l'auspicio che questo progetto del CNA possa realizzarsi perché effettivamente si tratta di far scoprire io ho citato soltanto le fosse granale masserie e i bordi ma io credo che anche non solo i bordi rurali ma i paesi tutti della Capitanata possano essere visitati e fruiti perché ognuno di questi paesi contiene tesori di arte di tradizioni e di arte materiale testimonianza materiale grazie grazie a tutti Grazie a tutti.